Ciao amici del MyLab, oggi come sempre ci occupiamo di cibo e stavolta andiamo in particolare a vedere quali sono le schifezze nel cibo e per fare questo ho invitato un mio caro amico che è anche piuttosto esperto e fra un attimo ve lo presento, ma prima di tutto vi ricordo il vostro dovere è quello di mettere like e condividere questi contenuti in modo che più gente possibile sia al corrente di queste informazioni, d'accordo? Per fare questo oggi ho chiamato su Skype il mio amico Giulio Sciotto che ci parlerà della provincia di Catania dove ha la sua farmacia, lui è un farmacista quindi si intende di queste cose, la biochimica e sa riconoscere quali sono i cibi schifosi, gli integratori schifosi e questa cosa qua. Allora buona giornata Giulio. Ciao, buongiorno. Vedo che sei molto indaffarato, c'è un sacco di gente che ti toglie dalle mani le carte. Eh sì perché quando è l'attività è così, hai tante cose, consegne, merci che arriva, insomma è così. È operativo, Giulio è operativo, grazie di averci dedicato del tempo. Dai descrivici un po' cos'è NutriParaVet, la tua parafarmacia. La parafarmacia NutriParaVet è una parafarmacia orientata sull'aspetto veterinario, come dice lo stesso nome finale, proprio perché insomma dalla passione di una vita per gli animali, per i cavalli ho deciso di mettermi in gioco da un punto di vista farmacologico e aiutare chi avesse bisogno insomma di reperire farmaci veterinari per cavalli, cani e gatti, non solo perché mi sono approcciato, insomma come dice sempre il nome della parafarmacia, alla nutrizione personalizzata e quindi mi sono orientato più su questo settore della nutrizione e dell'alimentazione corretta per poter fornire sempre ai nostri pazienti, i clienti, un servizio adeguato per essere consigliati in maniera corretta sull'assunzione di integratori corretti e di un'alimentazione corretta, infatti collaboriamo con diversi nutrizionisti della zona grazie ai quali è possibile impostare un programma personalizzato. Chiaro, quindi ti occupi sia di umani che di cavalli, mettiamola così per semplificare. Oggi ci occupiamo degli umani e so che tu sei uno degli agenti del MyLab più efficienti, nonché più preparato, allora ci ha selezionato un po' di sostanze, un po' di cibi, un po' di integratori che hanno dei difettucci come diciamo noi perché contengono zuccheri e quant'altro, ma lascio la parola a te Giulio, mostraci cosa hai trovato sugli scaffali. Grazie di nuovo per la parola Loris, quando è iniziato il MyLab, questo gioco nel MyLab di andare a intercettare e individuare quali potessero essere i cibi buoni e quali potessero essere i cibi cattivi, ho cominciato a dare un'occhiata sia ai prodotti che tratto io perché sono di comune consumo, sia dei prodotti che si trovano nei supermercati, nelle varie rivendite alimentari. Così indagando, leggendo gli ingredienti, le formulazioni di questi prodotti, mi sono reso conto che ci sono delle verità non dette o comunque nascoste dietro tante belle cose che possono apparire davanti agli occhi delle persone. Andiamo subito nel vivo Giulio, facci vedere queste cose che hai trovato. Io mi sono accorto che ci sono anche dei biscotti per la colazione che vengono venduti, nelle confezioni viene riportato senza zuccheri aggiunti, senza additivi. In effetti un prodotto buono a livello alimentare o comunque discreto e accettabile per la sua composizione chimica sono dei biscotti che ho trovato avere sì la farina di frumento, di yogurt eccetera, ma avere il maltitolo che è uno zucchero che non è così dannoso come lo zucchero raffinato. Quindi potrebbe essere un alimento buono da poter consigliare anche per i bambini, proprio perché sono dei biscotti che hanno un basso contenuto di zucchero che possa far male. Di contro però esistono delle barrette che vengono dette energetiche che hanno proprio lo scopo di alzare l'energia, sviluppare l'energia individuale, però queste barrette energetiche hanno anche la funzione di bruciare i grassi, vengono vendute per questo, da questa azienda. Però qual è la cosa che mi turba di queste barrette? Sì c'è la presenza di vitamine, di antiossidanti, di vitamina E eccetera, di mandorle, quindi di buone cose diciamo, però per essere un bruciagrassi non dovrebbe contenere zuccheri, perché sappiamo che gli zuccheri possono in qualche modo nel nostro corpo trasformarsi in acidi grassi e quindi di creare quell'accumulo di grasso in posti che non possono far piacere di certo una persona e quindi diciamo possono portare aumento di peso, disfunzione e di altro genere. Anche l'irritabilità è correlabile a un'u per assunzione di zuccheri, no? Quindi la presenza in queste barrette, chiamate bruciagrassi, di una quantità di 32 grammi ogni 100 grammi di barrette di zucchero, parliamo di zucchero raffinato, potrebbe essere paragonabile a una semplice lattina di Coca Cola che potremmo fare, che contiene 25 grammi di zucchero ogni 330 ml. Alla faccia. Considerando che per una barretta sola contiene 11,2 grammi e considerando che se ne prendono due o tre barrette al giorno, capite bene che non è un prodotto che da un punto di vista tecnico possa essere un bruciagrassi se poi da un altro lato i grassi ce li dà con gli zuccheri. E non solo zuccheri ma anche sciroppo di fruttosio, sciroppo di glucosio, cioccolato al latte che contiene zucchero, burro di cacao, latte in polvere, liquore di cacao, quindi insomma tutti gli ingredienti a base di zuccherina ovviamente raffinato. Perché ricordiamo sempre, gli zuccheri fanno bene, ma quelli non raffinati. Dobbiamo fare in modo che ci mettano tanto tempo ad entrare se vuoi che facciano bene, se no non fanno bene, punto e basta. Perché il punto di vista tecnico non deve essere immediato, quindi deve essere lento, rilascio, diciamo. Già. 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 Grazie a tutti.